La piscina di Gallicano funziona tutto l'anno e per questo è l'impianto sportivo più importante che esiste in Valle del Cerchio per le attività natatorie. Anche questo impianto, indubbiamente fiore all'occhiello di Gallicano e della Mediavalle, sta facendo da mesi conti con i vertiginosi aumenti dei costi energetici, come dimostra questa bolletta relativa al conguaglio del mese di gennaio 2023, ben 22.653 euro da pagare di conguaglio per il consumo di gas e per il periodo da novembre 2022 a gennaio 2023. Tutto questo frutto di una situazione iniziata ben molto prima del periodo della guerra in Ucraina e dell'ulteriore aumento dei costi, ovvero dal settembre 2021, quando non è stato rinnovato il contratto a prezzo fisso in essere, che ha costretto la piscina a trovare nuovi gestori con prezzi che da 0,41 centesimi sono saliti via via a circa 1,80 centesimi al metro cubo. Un aumento dei costi per il consumo del gas è quasi triplicato. Nel periodo settembre 2021-gennaio 2022 i costi erano di 13.476 euro. Nel periodo settembre 2022-gennaio 2023 i costi sono stati di 42.465 mila euro. Tutto questo nonostante un risparmio in metri cubi di gas di 9.449 metri cubi. Costi vertiginosi, che non è stato e non è facile sostenere. Noi abbiamo avuto chiaramente l'aiuto anche dal Comune. Il Comune ci segue perché non abbiamo soltanto l'attività della piscina, abbiamo tutta l'attività estiva, piscina e attività esterna della palestra, di tutta l'area verde, per cui gli impianti sono assai frequentati e ci hanno permesso finora di tenere duro a questi momenti.